È stata aperta per poter svolgere tutti gli accertamenti necessari in inchiesta della Procura di Udine a carico di gnoti per omicidio colposo, una scelta tecnica di tipo procedurale per svolgere controlli necessari per ricostruire i fatti su quanto accaduto nei pressi del Ponte Romano a Premariacco, in provincia di Udine, lo scorso 31 maggio, quando in circa mezz'ora la piena del fiume Natisone ha travolto Christian Casian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros. Tutto verrà verificato, acquisito e vagliato sui soccorsi, ha affermato il procuratore Massimo Lia, aggiungendo che allo stato attuale non ci sono elementi per poter ipotizzare condotte negligenti. La più giovane del gruppo, Patrizia, a vent'anni, aveva chiamato quattro volte il numero unico di emergenza 112, la prima alle 13.29 e l'ultima senza risposta. Le due ragazze sono morte per asfissia da annegamento, i loro corpi con indosso il vestito da sposa, secondo la tradizione del paese di origine, la Romania. Si trovano ora nella casa funeraria Mansutti, al cimitero di San Vito a Udine, dove è stata aperta la camera ardente. Intanto, a Premariacco, il livello del fiume si è abbassato, mentre proseguono incessanti da cinque giorni le ricerche di Christian. Impegnati 60 vigili del fuoco, ci sono sommozzatori, vengono utilizzati anche droni. Al di sopra delle acque, tornate cristalline, qualcuno per le vittime ha lasciato due rose sul ponte del Natisone, da dove i tre giovani erano stati ripresi in un abbraccio tra i familiari addolorati, parla la mamma di Patrizia, che dice tutti hanno fatto foto e video e nessuno invece li ha salvati.